che stava? ti posso dire una cosa? non ti appoggiare a mammina perché? è come perché? ma sto cucinando! ma sto cucinando! ma sto cucinando! che stai facendo tu? cucinando! perché accende il fumo, per cui si riscalda! si riscalda l'acqua! e poi che fai? e poi che fai zio? mi ha mancato! è freddo! stefano ma quanto vuoi bene a zio massimo? tanto! e come mi chiamo io? zio massimino ti voglio bene! è bello la tetta zio! è bello! ciao domassimo! ti voglio bene! ti voglio bene! ciao! ciao forte! un bacino! un bacino!